Ci siete tutti? Quest'anno sono tante le novità che noi abbiamo introdotto. Abbiamo voluto innanzitutto caratterizzare, concepire un modo diverso di fare il calentario, facendo sì che ci fossero dei corsi mensilizzati su delle grandi novità e su dei grandi temi. Infatti, cominciamo, i corsi iniziano l'11 novembre con questo corso dedicato al Bacio Perugina. Il corso nel mese di dicembre con dei corsi tematizzati perché ogni periodo del anno la Scuola del Cioccolato qui a Napoli presenterà dei corsi a tema. Quindi a Natale sarà caratterizzato dal corso degli alberi di Natale. Quindi corsi anche molto belli, molto intriganti, che vedono sicuramente una grande... Hanno visto e vedranno ancora di più, anche perché quest'anno abbiamo dato un'immostrazione insieme alla Scuola del Cioccolato molto più emotiva sul tipo di interazione che viene fatta con il pubblico. Tutti i nostri corsi saranno accompagnati da un maestro e cioccolatieri che seguiranno in prima persona questi corsi quindi faremo un'immersione veramente totale nel mondo del cioccolato e della Perugina. A dicembre, a fine novembre poi, e questa è un'altra caratteristica nuova che abbiamo dovuto introdurre insieme alla Scuola del Cioccolato, accompagneremo il calendario con degli eventi, che saranno una sorta di prelubio, di anticipazione su quello che succederà poi nei corsi successivi del mese prossimo. E cominceremo con l'inaugurazione del periodo natalizio, con il White Christmas, dove ci saranno le mini dimostrazioni di questi corsi e sarà anche una full immersion molto dolce in questa attività che andremo a fare. Nel mese di gennaio e febbraio, poi, come anticipazioni, faremo anche altri corsi, in particolar modo affronteremo un nuovo corso riguardo ai nudi, che è un nuovo prodotto che è inserito da Perugina. E poi ci sarà la grande occasione della festa di San Valentino, che sicuramente vedrà intorno tra il 12 e il 14 dicembre la possibilità di fare questo corso, che è un momento anche di comunicarsi tra le coppie e di vivere questa esperienza all'interno delle nostre aule. Grazie a tutti.